Foto agli stinchi di Boni, perché? Ma perché le foto agli stinchi? Fagli una foto, non in video. Festa di cazzo. Comunque è un problema comune, ce l'hanno in tanti. Questo? Sì. Tante persone non sanno sciare. Forse tanti non sciano ad 8 anni come me. Ma ti fanno proprio male? Voglia. Mi fanno male sì, mi sono già andato ai vettipedi. Ci diventano surare. Chiaramente. Diamo mangiare, oh.